Musica E allora, ultima sera, ultimissima sera, da domani si cambia, da domani poi ci saranno i nastri d'argento. E allora, Renato Balestra che ha cambiato la sua bellissima giacca blu di ieri con una giacca bianca, tre chic. Ma non lo so, lo dovete dire voi o no? E con lui è Umberto Ammirati, il suo testimonial che però viene dalla televisione, vedi caso? Sì, diciamo che ho iniziato con un concorso di bellezza, poi ho lavorato in Rai, in Mediaset per alcuni programmi televisivi. Cosa hai fatto in Rai? Con Rai, ho lavorato con la Carrà, quindi è stata un'esperienza magnifica. E da allora poi ho conosciuto il signor Balestra e da lì abbiamo iniziato a girare veramente il mondo con le sfilate per i vari posti, Miami, Los Angeles, Cina, dappertutto. Quindi vivevamo sull'aereo, come dice sempre lui. Renato, e com'è? È bravo? No, devo dire molto bravo perché è molto classico, molto contenuto, così non vuole strafare. Io non ho molta simpatia per una moda troppo scioccante, per cui credo che impersoni molto bene la mia linea. E allora, chiudiamo con un pensiero allo spettacolo, visto che tu fai moda, ma vieni dallo spettacolo e forse ritornerai allo spettacolo? Magari, intanto io sto studiando tanto cinema perché la mia ambizione è fare lettore. Intanto però ci godiamo l'avventura con il signor Balestra per la moda e tutto, e giriamo, che è una cosa molto bella. Coltiviamo questo sogno del cinema più che televisione, sinceramente. Speriamo bene, incrociamo le dita. Tanti auguri, e tanti auguri anche a Renato Balestra per le prossime sfilate. Per le prossime sfilate, tra pochi giorni, il 10. Anche a poco. Per le prossime sfilate, tra pochi giorni, il 10.